Continua la preparazione in casa Crotone con la squadra di Stroppa che sta approfittando della sosta in campionato per ritrovare la condizione giusta per risalire in classifica. In realtà servirà una squadra finora mai vista in questo campionato, ovvero un gruppo capace di mettere a frutto il proprio tasso tecnico, ovvero quello di una squadra costruita per il ritorno in Serie A. Ma è tempo di mercato e potrebbero esserci grandi stravolgimenti. Il primo acquisto per il momento è Alessandro Tripaldelli, esterno sinistro di proprietà del Sassuolo proveniente dal campionato olandese, precisamente dallo Zwolle. A gennaio dello scorso anno sono stato ceduto al Sassuolo e è arrivato giugno e siccome lo spazio era poco, poi anche il fatto dell'europeo non ho avuto la possibilità di fare il ritiro, quindi non ho potuto dimostrare lì e farmi notare dall'allenatore. Ho scelto di andare in Olanda per sei mesi e poi siccome comunque lì ho avuto anche poco spazio, vari infortuni e tutto, ho deciso di giocarmi le mie carte qua a Crotone. Sono molto felice di essere qua, spero comunque di dare una mano alla squadra. Purtroppo non è un momento facile, però sono convinto che la squadra ha i mezzi per ritornare dove meritiamo.